Quella di oggi è stata definita dal Movimento 5 Stelle l'operazione verità riguardo i fondi del Masterplan. Voi avete parlato di una verità che è stata mistificata dal centro-sinistra. Il centro-sinistra, il Partito Democratico, ha di fatto mentito e continua a mentire da cinque giorni. Si continua a parlare di scippo, si continua a parlare di taglio di risorse, si continua a parlare di pericolo per i comuni e per i soggetti attuatori di vedersi non trasferiti i fondi necessari all'esecuzione degli impegni dei progetti previsti nel Masterplan, ma è tutto falso e i documenti che abbiamo mostrato oggi lo dimostrano. Non c'è nessun taglio, si tratta di una semplice anticipazione di cassa di fondi per la quale la liquidità non è necessaria a Regione Abruzzo. Questi soldi sono fermi e sarebbero prestati al Ministero per effettuare i lavori di messa in sicurezza sulla 24 e 25 che mi sembrano fondamentali ed urgenti per questa Regione per soli due mesi. Cioè tra due mesi verrebbero restituiti in legge di stabilità. Si sta facendo una polemica strumentale e una propaganda elettoralistica. Voi avete parlato anche di un decreto in giunta il 499 del 9 luglio. La delibera 499 della giunta d'Alfonso, presidente d'Alfonso, presente Lolli, autorizzava espressamente il Ministero a prendere in prestito per semplificare questi fondi visto che erano per ora inutilizzati, con l'impegno di restituirli al più tardi nella legge di stabilità o nella legge di bilancio, quindi a renderli disponibili nuovamente al 2 gennaio 2019. Esattamente quello che sta dicendo il Ministro Toninelli negli ultimi giorni. Tanto questo è vero che c'è una comunicazione persino dell'ingegner Primavera che è il direttore del Dipartimento delle Infrastrutture e Trasporti di Regione Abruzzo del 17 agosto 2018 che scrive al presidente della giunta che è diventato Lolli e al dottor Rivera, al direttore generale di Regione Abruzzo vista la delibera che autorizza a prestare questi soldi mi date indicazioni su come procedere, su come rimodulare i fondi FSC del Masterplan per cui gli ultimi 5 giorni sono stati 5 giorni di menzogne.